E allora riprendiamo questo incontro domenicale con il professor Guglielmo Cevolin, stavamo appunto dicendo di questa situazione, a me pare che sotto il sole non si stia cambiando proprio nulla rispetto agli anni passati, agli anni, ai decenni, anche al secolo scorso non è cambiato nulla, la guerra è questa. Diciamo che non si è fatto tesoro dell'esperienza della seconda guerra mondiale, dei nuovi valori delle Nazioni Unite e così via, anche se però vediamo Putin comunque... Però scusi, anche le Nazioni Unite hanno un valore, sino ad un certo punto, basta il veto della Russia o dell'America... Beh, le Nazioni Unite a volte noi abbiamo una visione che non è attenta all'ambito giuridico perché pensiamo che San Marino nell'ambito delle Nazioni Unite possa valere gli Stati Uniti. Non è così, primo per la questione ovviamente del veto, ma anche perché come è stato l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha condannato come numero di stati, peraltro c'è la riflessione sul numero degli abitanti del pianeta che forse è maggioritario all'astensione del voto contrario, ma a parte questo, 141 stati su circa 200... 148, 35 astenuti... Ecco, 35 astenuti, ma comunque su circa 200 stati... Tra cui la Cina si è astenuta... Moltissimi hanno votato contro nell'Assemblea Generale, però per avere un permesso dalle Nazioni Unite di applicare l'articolo 7 e l'articolo 8, le misure implicanti l'uso della forza, bisogna che ci sia un voto del Consiglio di Sicurezza e il Consiglio di Sicurezza si dice tecnicamente una clausola commissaria, decide quando attivare le misure implicanti l'uso della forza e decide quali misure applicare. Se non c'è il voto del Consiglio di Sicurezza e non ci può essere perché la Russia parte in causa, non ci sarà una vera e propria legittimazione a un eventuale intervento. Adesso le notizie di ieri praticamente erano che la Francia chiedeva alla Turchia e non mi ricordo a che altro paese di fare un intervento umanitario a Mariupol. Ecco, però questo tipo di intervento, si parla di un corridoio umanitario, ma se ti sparano... Ma oggi è successo, oggi, ieri sabato, che l'Ocse aveva messo in campo un corridoio umanitario non facendo sparare. La guerra è questa, uno pensa al corridoio umanitario, no la guerra è questa, che poi nei convogli umanitari si sa meglio di me, si infiltrano le spie, c'è di tutto e di più. Però, però, ecco, è chiaro che se vanno Francia e Turchia, che sono due paesi nato, e si inizia a tirare giù dalle spese... Sì, ma non puoi pretendere, Zelensky, che ci sia una forza di interposizione della Nato, no, o è una forza dell'ONU, ma abbiamo visto a Sebrenica che i caschi blu sono stati fatti sloggiare da Maladic e compagnia bella. È una situazione un po' particolare, no? È un po' particolare, ma penso che il fatto che Putin dica a me basta il Donbass, cioè i generali hanno capito, perché poi i generali capiscono e il politico capisce che se non c'è l'appoggio dei generali rischia di cadere dal seggiolone tutti i politici, se non hanno l'appoggio dei militari in guerra. Le hanno detto, guardi che a noi ci conviene tenerci questa zona, che è già nostra, perché se vogliamo e pretendiamo di arrivare, rischiamo di fare la fine del topo. Questo è in sintesi, secondo il mio modestissimo parere, quello che hanno detto. Ma è ovviamente il combinato disposto delle difficoltà militari sul campo e anche il fatto che alla lunga, prima parlavamo del fatto che Putin come ne può uscire, cioè se gli si dà del criminale e guardate che si apriranno, si aprono procedimenti avanti la Corte Penale Internazionale. Non arriverà mai là, a meno che non decada come Mladic, a meno che, questo è il fatto. Infatti, quello è l'aspetto, cioè chi potrebbe condannare Putin sarebbe prima di tutto la Russia, ma ovviamente finché sta al comando no. Poi l'Ucraina, in quanto i crimini sarebbero venuti sul suo territorio, avrebbe potuto, per esempio, aderire alla Corte Penale Internazionale subito e chiedere un intervento proprio perché avviene sul suo territorio i crimini avrebbero sul suo territorio. Oggi quale intervento? Mandiamo la polizia al Cremlino, le mettiamo le manette a pulito? Cioè, sono queste... Ma lei sta dicendo benissimo, no? No, l'incriminazione... Ma sono solamente cose da gettare in faccia alla gente per... L'incriminazione però avrebbe un effetto, che Putin non può più andare, per esempio, in Cina a fare la sfilata con Xi, per esempio, cioè non può più uscire dalla Russia. Ma perché in Cina chi è che lo arresterebbe? No, ma il problema è non chi è che lo arresterebbe in Cina, è che volendo succede qualcosa, l'aereo non va bene, si deve fermare, qualcuno fa qualche dispetto... Cioè, allora sì, ho già capito, sì, 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 può capitare anche adesso, se è per questo... No, sono tutte cose che in teoria non dovrebbero capitare, però potremmo essere, dicendo che non potrebbero, che non possono capitare, potrebbero capitare fra 100 minuti. Malabic è finito, è finito dove è finito, perché la Serbia, di fatto, si era messa in linea con l'Europa. Ha consentito che fosse catturato, ecco, consentito. Anche se ieri, nel ventitresimo anniversario dei bombardamenti su Belgrado, c'è stata una protesta piuttosto corposa con migliaia di serbi a favore di Putin e contro la NATO. Non è una ferita quella, cioè, si ricordano ancora i bombardamenti europei, cioè noi diciamo che, tra l'altro, li teniamo lontani dall'entrata nell'Unione Europea, li gettiamo nelle mani della Cina e della Turchia, per esempio, questi paesi e non abbiamo fatto dei programmi seri di inclusione, perché se riuscissimo a far fare dei passi avanti sulla entrata in Unione Europea a questi paesi è più probabile che si stabilizzerebbero in versione più vicina all'Unione Europea rispetto che con delle deriva. Perché la Turchia deve entrare in Europa? Ecco, la Turchia, io sono contrario, sono sempre stato contrario. Se c'è stato un popolo che era contro l'Occidente e contro l'Europa, già contro Vienna era la Turchia, gli ottomani, che arrivarono con padre Marco che li fermò, se no non riesco a capire... Ma diciamo la Turchia no, perché è un ponte tra l'Europa e l'Asia e poi c'è la questione dell'Islam, addirittura c'era la questione del partito di Erdogan, che era un partito inizialmente considerato moderato e sposato dall'Occidente. Io negli atti di un convegno del 2007, mi pare, o forse anche di qualche anno prima, forse del 2004, non mi ricordo bene, in questo convegno internazionale mi espressi molto criticamente nei confronti di questo partito di Erdogan, perché in realtà utilizzava gli istituti nostri liberali della libertà religiosa in funzione anti-costituzione di Atatürk, che invece imponeva nelle scuole coraniche il controllo dello Stato. Invece il partito di Erdogan diceva che in virtù della libertà religiosa lo Stato non può controllare chi ci va a insegnare nelle scuole coraniche, ma perché? Per far deviare l'insegnamento religioso in Turchia verso posizioni più estremiste, che invece non erano consentite sotto la costituzione di Erdogan, di Atatürk. Erdogan ha cercato ed è riuscito poi a, come dire, anche con il grimaldello dei nostri istituti liberali della libertà religiosa, è riuscito a scardinare. Allora, facciamo finta che oggi, 27 di marzo, 32esimo giorno di guerra, i due si siedono al tavolo e decidono che la guerra è finita. Nella geopolitica cosa cambierà da domani, secondo lei? Ma intanto, molto premente, non è che possono sedersi solo loro due e chiuderla così, perché in realtà c'è bisogno, non si possono lasciare soli, perché da soli hanno già provato per un po' di volte e per ora non ci sono riusciti. Quindi ci vogliono... Gli angeli custodi? Ma, per esempio, anche gli angeli custodi, anche io penso agli accordi, per esempio, di Budapest, il memorando di Budapest, dove gli Stati Uniti hanno firmato insieme alla Russia, insieme all'Ucraina, che a fronte della restituzione da parte dell'Ucraina dei missili nucleari... Delle testate. Delle testate nucleari, 1500, perché ne hanno 6.000, ne hanno tantissime, e anche vetuste. Comunque, a fronte di questa cessione, restituzione, dovremmo dire, forse, alla Russia, delle testate, in realtà era garantita la sovranità, l'incolumità dell'Ucraina dal punto di vista militare, da un eventuale attacco russo. Questo dal 94 fino al 2022, al febbraio, ai primi di febbraio del 2022, ha tenuto, poi dopo Putin ha detto, no, questo non vale più, non vale più, non gioco più, come il bambino che dice, non gioco più. E allora, e allora, ecco che... Ci fu anche il trattato di Minsk. Ecco, però gli accordi di Minsk, subito, non sono stati realizzati da nessuno dei due, né dall'Ucraina, che doveva dare l'autonomia al Donbass. Ma li hanno firmati tutti i due quelli. Li hanno firmati tutti i due, ma poi mi viene da ridere, vai avanti tu. Che mi viene da ridere a me. Ecco che mi viene da ridere a me. No, ma è così, è così. Perché nessuno dei due poi ha dato attenzione. Ha di fatto concretizzato la firma. Sì, tu devi farlo per primo, tu devi farlo per primo. Senta, tra poco poi vediamo se riesce il mio regista, Christian, perché ho fatto vedere in tv una simulazione di un attacco nucleare, che ha interessato, insomma, anche noi. La prima domanda è questa. Si è parlato solamente così, dal punto di vista folcloristico, tra virgolette, in tempo di guerra? O secondo lei Putin ha detto deterrenza? L'ha detto già tre settimane fa. Biden ha detto sì, solo però, e l'altro giorno ha detto in caso estremo. Sì, in effetti ha detto, se usate le armi chimiche, ha usato una, diciamo, ambiguità strategica, ha detto, non ha detto, non useremo le armi, ma ha detto, praticamente, ci ha fatto intendere che potremmo essere pronti ad usare, ma ambiguità strategica vuol dire, non sappiamo cosa faremo, ma vi puniremo pesantemente. Allora, guardi... Che potrebbe voler dire anche quello che stiamo vedendo. L'università di Princeton, mi pare, non vorrei sbagliare, ma se è il finale, ha preparato... Una simulazione. Questo video, che è una simulazione in caso di attacco nucleare. La risposta dell'attaccato. Guardate. La risposta dell'attaccato. La risposta dell'attaccato . Grazie a tutti. Grazie a tutti. No, si è visto molto bene e non è l'ultima università questa, la conosce meglio. Diciamo che questa però sarebbe la deterrenza, allora la deterrenza ne abbiamo parlato con dei generali, con il generale Battisti per esempio. Deterrenza no, 100 milioni di morti senza il fall out, quindi chissà. Ah, hai detto che poi dopo la terza guerra mondiale ho una certezza che la quarta si combatterà con i bastoni e le pietre. Un ritorno alle origini. Sì, quindi da questo punto di vista questo dovrebbe essere impedito razionalmente. Uno dice, lo ha detto qui, che comunque avendo Aviano, le testate, siamo come protetti, siamo in un ombrello. Ci sono tutte e due, è univoca la cosa. Siamo sicuramente un obiettivo, abbiamo visto. Sì, sì, l'ho visto subito. dovrebbero essere messi in campo tutte le possibilità. Tra l'altro lì ho visto ad Aviano, ma oramai da un po' d'anni, qualche anno hanno messo, una volta passando in macchina, mi sono accorto di un affare rosso che girava. Poi ho saputo che è un radar particolare che riesce a rilevare a migliaia di chilometri quanti arrivano sulla base americana di Aviano. Beh, sicuramente in quella sede avremo le migliori tecnologie da fare invidia allo Stato di Israele per stuzzicare il nostro direttore. Sa che Israele aiuta anche in questo momento, no? Israele, di solito, quando gli arrivano dei nuovi accorgimenti tecnologici dagli Stati Uniti, sei mesi dopo, gli Stati Uniti si stupiscono dell'avanzamento che hanno avuto in Israele e che li hanno trasformati e migliorati in maniera straordinaria. Perché Israele è molto avanti sulle nuove tecnologie, su tutte queste, con mille start-up. Perché noi stiamo parlando di bombe, di quali da, però ci dimentichiamo degli hacker. In due occasioni hanno colpito anche il nostro paese, non sto dicendo hacker. Hanno hackerato le rivendite, quelle dei biglietti in ferrovia. O in altre parti hanno bloccato la sanità e quant'altro. Ecco, non c'è la paura, Anonymous è arrivato nella tv russa, è entrato nei quotidiani russi cambiando la notizia. Cioè, in Russia. Però ecco, vedete, Anonymous non si sa chi sia. Dall'altro lato anche gli hacker russi non sono membri del governo, ma può darsi che il governo li protegga. Ecco, perché se no la CIA li avrebbe già tirati giù dalle spese, forse. Allora, questi soggetti che realizzano, sono a volte delle società di informatica, che realizzano questi attacchi. A volte sono dei criminali particolarmente avanzati, che ormai hanno capito che è più facile rubare attraverso questi sistemi, chiedere dei riscatti e così via, o minacciare di diffondere tutti i dati. Scusandosi, eh. Allora, non posso dire nulla, ma vi dico una cosa. Ti può capitare un giorno di sederti al tuo posto di lavoro, accendere il PC, tentare di collegarti, ti si blocca tutto, ti viene fuori un quadrettino e ti dice, caro amico, se tu vuoi avere i tuoi dati, devi pagare in criptovalute, in bitcoin, tot, centinaia, milioni e via discorrendo. Scusaci se facciamo questo, eh. Ma noi... Sono anche gentili. Si dice, scusaci se facciamo questo, ma è il nostro lavoro. Guardi che non sto dicendo male. No, 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 ma lo so, ci sono alcuni anche che poi in realtà risolvono la questione pagando all'inizio. Fammi vedere, fammi vedere quello di prima, Cristian, quel radar che ho visto, fammi vedere, ecco. Eccolo. Se voi passate per Aviano, buttate l'occhio, è uno, tre volte questo. Enorme, enorme. Quindi gli accorgimenti, diciamo, però pensate che per questi attacchi spesso noi nel Master Intelligence formiamo esperti proprio di questo, di cyber sicurezza, è l'errore umano, cioè spesso è stato un dipendente che ha risposto un'email, ha fatto, e ha fatto entrare nel circuito dell'azienda. Quindi a volte sono anche degli errori facili da commettere, ma che creano dei danni irreparabili, perché ormai questi criminali oppure terroristi, dipende da che cosa chiedono, ottengono praticamente un risultato economico, non solo dicendo ti abbiamo sequestrato i dati, perché ormai quasi tutti hanno fatto degli ottimi backup, ma dicono sì, adesso diffondiamo in rete tutti i tuoi dati, così si fa vedere che livello di sicurezza avete, che serietà di società siete. Quindi ecco, da questo punto di vista è con tutta evidenza un pericolo quello di non stare attenti a queste cose anche molto semplici che ci arrivano sul computer e che possono essere invece il cavallo di Troia, perché poi si chiamano così, proprio di o terroristi o criminali. Consiglio personale? Spegnete il computer quando finite di lavorare, perché se lo lasciate acceso, loro entrano, anche se voi non aprite nulla, loro entrano, si prendono tutti i dati e poi vi chiedono i dindini. Se volete un consiglio spegnete l'interruttore, ma anche l'elettricità. Consiglio? Poi fate quello che volete. Grazie al professor Guglielmo Cevolin, esperto in geopolitica, l'IMES è tra l'altro, docente universitario, l'IMES è storia, con lui ci troviamo tra sette giorni, sperando di parlare di pace finalmente, ma oggi era il trentaduesimo giorno di guerra. Noi proseguiamo, ora parleremo ancora di violenza, ma non è la violenza che arriva dalla guerra, anche se in questa guerra abbiamo letto di stupri, di violenze, io non mi sono meravigliato perché c'è stata sempre la violenza portata all'estremo, nei confronti delle donne, dalla prima guerra mondiale alle battaglie che ci sono consumate in questi anni, quindi non mi sono meravigliato. Ma ci sono un gruppo di uomini che hanno dato vita ad un'associazione per aiutare altri uomini, per aiutarli a uscire dal loro ambito di violenti. con Mariano Maiorino e a seguire poi un altro tema, ma questo ci interessa da vicino noi, qui dal Pordenonese, è la situazione della sanità nel Pordenonese, una situazione tragica, direi a volte anche tragicomica, ma è tragica nel vero senso della parola. E questa sera ne parlerà il Presidente dell'Ordine e della Posizione Sanitaria, il Dottor Luciano Clarizia, assieme ai diretti protagonisti di una protesta che oramai è non più latente, ma è davanti a tutti, tranne forse a chi dovrebbe capire che a volte sarebbe molto più logico abbandonare il proprio posto, salutando e ringraziando. Grazie ancora, professore, grazie a voi, prosegue il tutto su Il 13.